Giovedì mattina si è svolto il Comitato Ordine e Sicurezza presso il Comune di Vigevano. Apertura del posto di polizia al pronto soccorso e possibile chiusura notturna del sottopasso della stazione tra le novità principali emerse dall'incontro. Dopo gli episodi di cronaca, verificatisi qualche settimana fa nelle zone del centro, la Prefettura ha deciso di esaminare possibili soluzioni per la comunità. La decisione è stata quella di procedere con l'intensificazione dei controlli, con il passaggio delle forze di polizia nel centro storico. Anche i gestori dei locali collaboreranno per ottenere maggiore rigore. Saranno sospese o revocate le licenze commerciali laddove si verificano violazioni delle regole. Anche la stazione e le zone limitrofe saranno particolarmente attenzionate perché è luogo di ritrovo di cittadini stranieri irregolari. Il progetto prevede la chiusura, anche da remoto, dei sottopassi. Saranno inoltre implementati i sistemi di videosorveglianza. Non è emersa una situazione emergenziale, è emersa una situazione che noi vogliamo continuare a seguire con la massima attenzione, con rigore nei confronti delle fonti e dei centri di aggregazione negativa che favoriscono disordini ed episodi di degrado sociale urbano. Il prefetto, alla fine del comitato, ha esaminato i recenti servizi straordinari di controllo del territorio, gli ultimi risalenti al 12 e 22 gennaio, rivolti agli esercizi commerciali. Era stato chiuso definitivamente un bar dove si erano verificati fenomeni di illegalità, quali spaccio di sostanze stupefacenti, somministrazione di bevande alcoliche a giovanissimi e forme di aggregazioni moleste per la sicurezza dei cittadini. Anche gli ospedali del territorio avevano bisogno di maggiore sicurezza. Dal 22 gennaio è stato infatti avviato il posto di polizia presso l'ospedale civile di Vigevano. Si trova precisamente nell'area accanto al pronto soccorso ed è funzionante dalle 8 alle 20. A questo si aggiunge, dalle 20 alle 8, un servizio di vigilanza privata.